Ciao ragazzi, come potete vedere sono in pigiama perché tra poco penso di andare a dormire Allora, ho fatto questo video perché voglio parlare di come è stato, diciamo, affrontare il mio esame di stato anche se sono passati 7 anni, a distanza di 7 anni, ho deciso di fare questo video anche perché ho aperto il canale da poco quindi ho pensato di farlo, in questo senso qua, diciamo così molto probabilmente se il canale ce l'avevo aperto già 7 anni fa l'avrei fatto allora però l'ho aperto molto il canale quindi faccio adesso il video allora, se non lo sapete già, io ho fatto, mi sono diplomata, liceo artistico e praticamente per me è stato difficile fare l'esame di stato perché perché allora la prima prova, mi ricordo che era la prova di italiano dovevamo scegliere tra due tracce mi sembra una fosse il passaggio breve, l'altra non mi ricordo però io avevo scelto, mi sembra l'altra traccia però avevo qualche dubbio riguardo se il metodo di giudizio era uguale però alla fine ho scelto di fare, diciamo, la seconda dopo un po' mi è preso il panico perché vedevo che uno a uno consegnavano e io stavo ancora a finire niente, praticamente sono stata la penultima a consegnare ho preso e ne sono andata poi ricordo che avevamo avuto no, no, aspettate no, quello era dopo dopo un giorno dopo mi sono andata a ripresenta a scuola per fare la seconda prova che era quella di indirizzo quindi che consisteva comunque che ti davano un tema di moda tipo ispirati crea una collezione di abiti del settecento e tu devi fa quello e anche lì c'è stato un problema perché? perché in base a quello che era la seconda prova che non lo decidevano comunque i professori cioè la commissione ma proprio dal ministero arrivava questa cosa si poteva scegliere, diciamo, la terza prova che era preparata dai professori stessi quindi ogni scuola aveva una cosa diversa il problema era quello che ci avevano praticamente il tema era quello create una collezione di abiti ispirati ai giorni d'oggi però in quel caso la cosa che che la seconda prova era collegata alla terza non esisteva più cioè non poteva più essere perché ci potevano chiedere qualunque cose infatti questa cosa mise in crisi parecchi professori perché non sapevano cosa chiederci alla terza prova e c'è stato un un problema però sono stata anche fortunata perché? perché praticamente mentre le altre scuole diciamo la seconda prova durava un giorno nella mia scuola durava tre giorni ciò significa che praticamente la terza prova che gli altri la facevano il lunedì successivo noi l'abbiamo fatta di martedì e quindi avevo un giorno in più per prepararmi sembra la follia però per me è stata una fortuna questa perché alla fine mi ricordo che noi abbiamo iniziato a fare proprio l'esame scritto di era un mercoledì poi giovedì, venerdì e sabato abbiamo fatto diciamo questa prova di moda che lì invece è successo il contrario cioè che sono stata la prima che ha finito quindi alla fine tre giorni a fare realtà tre schizzi cioè tre tavole una al giorno in pratica che era sempre quello quindi alla fine è andata poi domenica no cioè io ho iniziato dal sabato in realtà dopo che ho finito domenica e lunedì praticamente a studia come una matta praticamente non avevo tempo neanche di respirare di mangiare di andare al bagno niente proprio a studiare a studiare a studiare oddio oddio la terza prova oddio la terza prova perché ho fatto questa cosa poi finalmente arriva la terza prova e lì un panico praticamente totale perché perché praticamente sono stata l'ultima dico l'ultima a consegnare proprio l'ultima l'ultima cioè tutti quanti erano usciti io l'angora scrive e tutti i professori che mi fissavano oddio inquietante inquietante ragazzi voi non potete capire inquietante oddio che ansia poi dopo circa una settimana ma neanche una settimana perché io mi ricordo che avevo dato l'esame finale quell'orale che era di sabato però il sabato sempre quella settimana quindi non era neanche una settimana io lì sembra studia come una pazza non respiravo non mangiavo non facevo nulla proprio a studiare a studiare a studiare poi sono andata lì praticamente per chi non lo sapesse io ho fatto l'esame la mia tesina era sulla danza allora ho cominciato a parlare la danza appena ho rovinato danza praticamente la corrente la corrente ha fatto volare i folli perché io comunque avevo dei folli davanti cioè erano non la tesina diciamo così erano folli che dovevo comunque firmare non so se anche voi l'avete fatto non lo so hanno cominciato e allora ce n'è stata uscita una professoressa ho detto ma qua danzarò pure i folli vabbè meno male e poi cominciato a parlare a ripete storie storie dell'arte tutte le materie praticamente io avevo sei professori di fronte più la preside esterna di un'altra scuola seduta qua e di là avevo un'altra professoressa in cui tante ragazzi oddio ma che cavolo me l'ha fatto fare oggi tipo così voglio morire perché e poi il bello che ci stava la preside esterna che a un certo punto si è messa a fare pure le foto cioè io ero in Asia per 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 l'esame che non sapevo nulla e lei bella tranquillamente a fare le foto foto ricordo foto ricordo che tra l'altro che tra l'altro non le ho neanche più avute quelle foto quindi non so neanche se sono venuta bene se sono venuta male ma non mi importa cioè assurdo assurdo dopo quando ho finito di ripetere quelli della commissione mi hanno fatto poi di qualcosa così io con la faccia proprio serio finalmente libera e poi vabbè poi chiaramente l'ansia oddio l'avrò passato non l'avrò passato ma per fortuna è andato tutto bene sono stata promossa fuori da quella scuola quindi ecco la mia storia spero che vi sia piaciuta e a presto con un nuovo video a presto